ragazze buongiorno situazione meteo tempo bruttino e piovigina allora ragazze oggi voglio fare una ricetta speciale posate al sale posate d'argento al sale vedete ora le metto al forno e ce le mangiamo stasera che stasera ho i figli a cena che ne pensate voi le avete mai gustate le posate al sale allora ragazze scherzo naturalmente dunque queste sono delle posate queste in particolare sono delle posate d'argento antiche queste invece sono posate che mi sono state regalate per le mie nozze d'argento e taglia torta il prendi torta qua ci sono delle forchettine poi c'è anche dei cucchiaini ora perché sono messi qui nella teglia d'alluminio con del sale grosso perché ho visto su youtube io ve lo dico che cerco sempre su youtube video cose e notizie che possono servire praticamente è in una teglia d'alluminio col sale grosso e versando poi acqua bollente dicono che si puliscono in maniera naturale in maniera molto semplice senza che si lucida uno per uno le posate voi lo sapete io uso emulsio splendi argento faccio appunto tutto l'argento in questa maniera anzi veramente l'ho fatto da poco se vi ricordate di fatti ancora è tutto bello lucido però ragazze una cosa è pulire una ciotola d'argento una cosa è pulire le posate una per una diventa l'ho fatto tantissime volte in passato però dico se lo posso fare in questa maniera più semplice io ci provo benissimo allora ora prendo quest'acqua bollente e la verso qua direttamente e vi faccio sapere